Siamo alla scuola dell'infanzia Carlo Evangelisti nel quartiere Montespaccato di Roma dove i genitori lamentano la presenza di una tettoia in amianto proprio nel cortile, vedete, accanto a dove giocano i loro figli. L'osservatorio per quanto riguarda la ricerca dell'amianto nella persona del presidente Monanni è venuto personalmente qui e ha riscontrato questa tettoia danneggiata, rotta, vuol dire che disperde nell'aria delle particelle pericolose. Oltre a questa tettoia c'è tutta la canna fumaria che si trova nelle stesse condizioni. Successivamente a questa presenza che ha fatto qui il presidente è partito per forza un esposso alla procura della Repubblica. Quindi noi siamo in attesa che l'osservatorio per l'amianto riceva informazioni rispetto a questo perché è una cosa molto grave, non è una cosa da sottovolgare. Quindi noi come cittadini vogliamo sapere che cosa ne pensano di continuare a far giocare e far venire a scuola dei bambini in questa scuola, in queste condizioni, con un tetto e con un edificio che è stato impacchettato come un pacco di Natale. Non è quella sicurezza, non è una modalità di sicurezza. I bambini non sono in sicurezza con una transenna e con dei fiocchi rossi. L'altra precauzione presa dalla scuola è stata quella di non far uscire più i bambini in cortile. Che non è una soluzione perché le polveri sottili comunque salgono fino alle classi che sono subito sopra e quindi il non scendere in giardino non è una soluzione. Non è una soluzione adesso tenerli in classe visto che adesso inizieranno il tempo pieno e dovranno stare otto ore chiusi dentro una classe, cioè è una cosa assurda. Già vengono da un anno di covid, poverini. La recinzione è veramente ridicola. La scuola deve essere un ambiente sano dove i bambini possono giocare e noi dobbiamo stare tranquilli che loro stanno bene. Beh, questa mamma ha perfettamente ragione. È una situazione ridicola. Il dramma è che di segnalazioni come queste ne riceviamo continuamente e sono anni che ci occupiamo della questione dell'amianto in tante situazioni diverse che non sono soltanto quelle delle scuole ma di fabbriche, centri abitati e via dicendo. Ma naturalmente quando si ha a che fare con la scuola il problema diventa ancora più grave. Ora, voi avete sentito, i bambini una soluzione può essere quella di non farli scendere in giardino. Bene, è vero, dopo un anno e passa di covid, di chiusure, eccetera, in un momento in cui incredibilmente abbiamo avuto un mese di ottobre e ci dicono i meteorologi che avremo un mese di novembre, speriamo, particolarmente mite, non far andare i bambini a giocare in giardino è una cosa veramente fuori dal mondo. E quindi in questo caso chiediamo ovviamente che ci sia un'accelerazione nell'intervento e che sia soprattutto un intervento risolutivo. E poi naturalmente se ci sono situazioni come queste nel resto d'Italia segnalatecele perché, ribadisco, è un argomento nazionale. La questione amianto non è una questione da sottovalutare.